Se il bullismo diventa anche razzismo, la miscela è esplosiva e gli effetti possono essere devastanti. È accaduta Gela in una scuola media superiore. Episodio accertato e oggetto di indagini sfociate in un provvedimento antibullismo, emesso dalla procura per tutelare un senegalese minorenne, vittima di stalking, distorsione, lesioni aggravate e discriminazione etnico-razziale. Tre giovani gelesi, due minorenni e un maggiorenne, studenti di una scuola superiore della città sono stati raggiunti rispettivamente da ordini di permanenza domiciliare. Uno di loro, anche di divieto di avvicinamento allo studente senegalese, loro compagno di scuola, che avrebbero ripetutamente minacciato e intimidito in un episodio anche a scopo di estorsione. Ma la vittima, solo in occasione dell'ultima aggressione, si sarebbe decisa a denunciare una situazione ritenuta ormai insopportabile. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno indotto la procura di Gela e la procura del Tribunale dei minori di Caltanissetta a richiedere e ottenere dai GIP dei rispettivi tribunali i provvedimenti limitativi della libertà individuale per i tre presunti stalker.